Tu, un'amica mi ha detto che adesso simpatizzi per il veganismo, e già so che fai yoga, e altro yoga, hai la bellezza e la natura, forse stai attenta a non calpestare un insetto, forse hai uno sguardo buono anche per ragni e scorpioni, e questo è molto bello, ma vorrei farti notare che quantomeno dal punto di vista scientifico, biologico, sono anch'io al momento un'essere vivente, e sono in ansia per te, una parola me la potresti dire, o concedere a mio amico lo sguardo che forse concedi ai vari e ai scorpioni, che tutto sommato credo di essere meno venenoso di loro, e più in ansia di loro per te, anzi, guarda, secondo me, ai vari e ai scorpioni per te non gliene può più caso.